YARG! Corpo di mille balene! Benvenuti nuovamente su Gamescore.it Sempre in compagnia del vostro Anderagforte di fiducia Oggi mi sa che non sarà così difficile indovinare che tipo di gameplay faremo in quanto la tipica espressione piratesca è questa Quindi oggi un gameplay a tema pirata con Under the Jolly Roger un GDR open world a tema piratesco in uscita proprio oggi 3 settembre sulle shop di Nintendo Switch dove lo potete fare vostro al prezzo di 17,99€ Il gioco è targato Herocraft è bella ora vediamo un po' com'è quindi il Jolly Roger penso sappiate tutti che cos'è ma lo ricordo magari per chi non lo sapesse è la bandiera quella alla colteschio e diciamo le due sciabbole mettiamola così che veniva utilizzata come bandiera di pirati insomma è entrato nell'emblema nazionale no vabbè ma nazionale no però insomma comunque è una cosa tutta bella la sghecia insomma allora quindi cioè tu mi stai a iniziare proprio così cioè tu mi stai proprio a iniziare così raga non so che devo fare raga io non so che devo fare non si muove niente raga ma che sto a fare raga ma che ho fatto raga se oh ma che ho the enemy is mobilized wait for the cannons to roll press ZR per allora devo schiacciare ZR per tirare a gente ma vedi da che parte tiro ah ecco di qua può essere boom bang boom bang no cribbio ho tolto la cosa no volevo sapere che cosa non ho visto che cosa ho detto allora ma prima di morire il capitano ha radunato tutte le creature più pericolose dall'oceano il tizio l'abbia ammazzato ok quindi no raga no vabbè no vabbè air kraken raga air kraken raga air kraken e mo quindi oh no vabbè no no ma che allora un mostro ci ha distrutto la mia air rietta e che sarebbe la nave un giorno troverò sto cavolo di coso che mi ha ammazzato e e devo viaggiare fino all'isola di Janet forse old rick lo sa allora devo completare il mio training on the job all'accademia insomma ecco mi ci vado che è sta roba e andiamo di qua che è sta cosa ah forse eccolo questa qua è l'isoletta quindi allora ah questa qua è un'isola mica ok perfetto quindi oh va a mendano annaggia ok e ok old rick mi stava aspettando nella taverna ci siamo incontrati e ha detto che suo fratello Jack e mi è andato a cercare sull'isola di Luisa e Amelia e penso che dovrei incontrarmi con lui ma tipo io qua posso fare qualcos'altro tipo eh chiedo ok ok e non so oh raga mi sto a muovere raga mi sto a muovere no adoro figo allora apriamo la mappa io mo devo andare che era sta cosa che ti so manco che prima andrà qua no te prego dimmi che non incontro raga raga ci stanno i pirati raga ci stanno i pirati dai ma iniziamo sta battaglia dai raga raga non li vedo ma che sai ma è quello yeah ci urma andiamo tutti all'area in maggio forza grande one piece sempre raga ma voi siete tipo fan di one piece perché cioè io tipo troppo cioè amo adoro no raga non sto a andare perché non vieni qua oh dai spara questo aspetta ecco giriamola org org allora vai vai eh no mo tanto da chiappo te boom boom pericolo pericolo gico viece 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 boom 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 non mi dica che l'ho affondata mi sento un grande eh questo qua perché mo faccio un gommu gommu no jet pistol e l'ammazzo questo boom boom dai oh vai dai raffi ammazzalo vai go ma quanto dura sto combattimento ma quanto è forte sta nave oh 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 si vede che non so guidare i navi forse non so perché ma questo mi sa messa no oddio no manco tanto manco tanto alla fine rega mi devo avvicinare mi devo avvicinare vai non ne la faccio eh cosa sta fermo là vai namo ragazzi ecco eh dai zoro nami namo tutti namo tutti dai boom boom prendi e porta a casa prendi e porta a casa oh rega sta sparì quello rega non lo vedo ma che è quella cosa là rega ma che è rega ma che è vai si oh si 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 ok andiamo a cercare il one piece ragazzi yeee e adesso come faccio vabbè mo apriamo pure la mappa perché tanto questo l'ho killato quindi questo non so che è proviamo da qua vediamo un po' che è un raid dei pirati che dici ci provo boh beh eeeh forse devo entrare qua boh no vabbè dai su prima andrà qua academy faccia un'altra porta ai pirati vai vai rega vai me la sento troppo guatta rega me la sento troppo guatta ma dove sta no rega sono due oh se li batto ragazzi se li batto se li batto boh non lo so allora andiamo oh ma che t'hanno a fa' questi oh ma non siete pazzi boom boom oh 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 calmo calmate ma che stai a fa' intanto devi ricaricare le cose un secondo di che ma che è ma che stai a fa' vai vai viaggiamo così dai ma quello che è alleato mio che è boh no vabbè ma tu oddio scusa 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 chi co ma chi è che li sta attaccando ma che è stata a fa' io non so capi proprio allora vai non mi dico vinto no magari ecco vai eccomi easy cioè questo mi dice pure da dove viene la direzione della del vento però ah mi sa se stanno a morire la gente però vabbè ah rega devo vincere io dai 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 ma che è quel coso la ahia ahio oh 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 chicco mi aiuti chicco mi aiuti per favore rega mi stanno ammazzà mi stanno ammazzà chicco prima mi hai aiutato tu ma vieni qua non vi è ci dai oh oh ci sto ci sto ci sto non do scappi dove scappi where do you scappi vieni qua vieni eh quello sta viaggiando oddio non ce la farà mai sei troppo lontano vediamo così vediamo un po' se ci arrivo vediamo un po' ma quello che sta a fa' se lo sapete che stai a fa' la vicina a sta roba rega io non so capire minimamente quello che sta accadendo qua cioè ma ma tu ma sei tu che stai a sparare dai oh sta bravissimo chicco e devo aprire il coso ZR ah e no allora che devo fare ma chi siete ah pensa un po' ho capito aspetta voglio prendere qui la cosa là aspetta ah ecco ok posso allora adesso andiamo no rega che ho fatto ah ok allora andiamo qua no basta pirati rega cioè basta ne avanza per mo dai allora l'accademy si l'accademy l'accademia mi insegnerà come diventare un vero uomo di mare ok quindi devo aprire ah qua posso sbloccare pure le navi che carine under full sail allora dai allora ehm ti insegno come viaggiare più velocemente perché infatti non lo so come si fa che cos'è questo il checkpoint che devo fa' yeah oh rega guardate quanto è grossa cioè la mappa del gioco è pure grossa eh alla fine ce l'avete capito che figata allora guarda la la bandiera della tua nave per determinare la direzione in cui il vento soffia gira la nave fino a quando non va col vento allora quindi io se voglio viaggiare allora devo andare di qua cioè perché se il vento soffia no aspetta no scusa no rega non lo so allora il vento soffia verso destra no quindi mi dovrei mettere verso destra per acchiapparlo giusto cioè ditemi se sbaglio eh non me lo potete dire perché non mi state seguendo lo vedrete indifferita quindi allora se io sto così mo così dovrei sapere oh ecco allora quindi adesso eh si vai però cioè questa darrebbe la velocità massima ok raga ma stessa cosa stessa muove niente non è che devo schiacciare solamente y tipo tipo eh chiedo per un amico ok dai dai ci sta vai ok dai ci ho messo mezz'ora eh però ok ritorniamo all'accademia e vediamo un po' quello che mi dice no basta cioè basta pirati l'abbiamo visto un po' come funziona easy poi e la nave vabbè la riparo tanti soldi guarda come me li sto flexando mi flexo tutti sti questi questi i rubli no i rubli però mi flexo i soldi allora andiamo di qua the crew importance yeah allora adesso è tempo di imparare come gestire la la crew la mia american dance crew yeah vediamo un po' e questo va bene quindi qua posso no qui sta diciamo prendere nuove persone allora muovi il puntatore nella taverna e poi schiaccia x ok quale sarebbe quale sarebbe la taverna dove regando sta la taverna regando la vedo ah allora questa è la taverna devo prendere quattro mani verdi quindi uno due tre ok adesso posso assegnare ad ogni nave il artizio e devo posizionare due marinai nella una cosa cioè quindi che devo fa' a livelli regando so capir' ma già ho fatto ma scusa me via rega io sto a muovi tutto qua so che sto a fa' ma io sono 5 quando sono spuntati ma ma che sto a fa' oh cioè allora io devo allora rega metto un attimo un trippato quindi devo eh devo mettere un un coso rega non so capir' no scusa oh rega io mo schiaccio tutta roba cavolo eh rega ma che sto a fa' oh signore rega non so capir' di allora premi A per selezionare in cose muovilo con la L oh rega eh 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 ah è oh e adesso devo andare 4 giù 1 2 rega ho capito mo allora quindi il numero di cose dipende dalla l'efficienza della crew dipende eh dai tizi che stanno là in coperta penso no boh l'efficienza è a 120 io sto a 118 beh ah quindi se vengono mi posso fare quella medicina quindi ah per eh curare un tizio ah allora non posso eh noleggiare non posso reclutare un officer nel porto ma gli officer specializzati in tra diciamo in traffici come si dice che sono abituati a trafficare i cosi un po' traffichini insomma mettiamola così e possono far parte della tua cosa clicca sul pulsante quello là per aprire il menu ok ok fatto ok mo lo so maneggiare ma ne è vero maneggiare non lo so però oggi si allora venduto facciamo quest'altro penso che un pirata ha bisogno di sapere come flexarsi bene gli affari ok trading allora quello è lo shop quindi ah devo selezionare che dici vabbè dai ah quindi li posso mettere da là ah questa qua è la mia stiva ok abbiamo questa che te lo tipo ok e vabbè quindi che devo famo oh regalo guadagnare soldi insomma manco io come quindi va bene ok allora ragazzi io penso abbiate capito un pochino che funziona il gioco dobbiamo diventare il erede pirati e andare alla ricerca del one piece no non è vero il one piece non lo dobbiamo cercare perché quella è un'altra storia però comunque dobbiamo fai figli insomma allora vi ripeto il gioco under the jolly roger è in uscita quest'oggi sulle shop di nintendo switch dove potete acquistare al prezzo di 17 euro e 99 è targato hero craft e e niente insomma penso di aver detto un pochino tutto perché ci sta mettendo qualche secondo per caricarsi però l'ho anticipato tipo troppo e vediamo un attimo no no ok no da paura il gioco purtroppo non è italiano però non è così difficile insomma magari a parte qualche passaggetto così perché si capisce quello che devi fare però va bene e fatemi sapere un pochino che cosa ne pensate di questo gioco e noi ci riaggiarremo al prossimo video ah ovviamente seguiteci ovunque mi raccomando ciao ragazzi fuori ciao 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 ciao